Buongiorno e benvenuti alla resegna stampa del 31 gennaio 2020, oggi siamo a venerdì e questa è Fano TV, siete sul canale 17, in diretta ci sono le notizie di prima mattina, notizie locali ovviamente, tra poco vedremo il resto del carino, il Corriere Adriatico, ma insomma le notizie che stanno arrivando in queste ultime ore da Roma non sono incoraggianti sulla questione del coronavirus, daremo un'occhiata anche al Corriere della Sera, il sito internet per vedere le ultimissime, il virus è arrivato purtroppo anche in Italia, ci sono due casi certi, lo ha dichiarato il Premier Conte e dunque sale l'allerta, ma non dobbiamo certamente creare allarmismo, ma di questo parleremo anche tra poco, tra un istante. Dopo aver detto qual è il santo di oggi, che è un santo importante, oggi è San Giovanni Bosco, San Giovanni Bosco che è nato a Chiena, in frazioni Castelnuovo d'Asti, il 16 agosto del 1815. Il sole sorgerà alle 7.27 e tramonterà alle 17.17. Questo invece è il sito trebimeteo.com che ci dà la possibilità di vedere come sarà il tempo oggi, in generale un po' su tutta l'Italia, come vedete dalla copertina, avremo un fine settimana, quello della Candelora, tra l'anticiclone che garantirà ancora bel tempo, ma anche eventi atlantici che porteranno delle conseguenze. La prossima settimana invece avremo un'iruzione fredda che punta dritto dritto sull'Italia. Oggi avremo, secondo il bollettino della Protezione Civile delle Marche, un cielo parzialmente nuvoloso, soprattutto in montagna, con addensamenti maggiori sui versanti occidentali e sereno, poco nuvoloso, lungo invece la fascia costiera, con qualche precipitazione, soprattutto in montagna, sul Nerone, Catria, Carpegna e sui Sibillini al sud delle Marche. Avremo soprattutto temperature che ancora oggi saranno addirittura in lieve aumento, toccheremo come a Ascoli Piceno 18-19 gradi, quindi temperature assolutamente estive, quasi primaverili, ma quasi tendente all'estivo. Per quanto riguarda la giornata di domani, il primo di febbraio si apre con un cielo sereno poco nuvoloso, è sempre in montagna, questa volta nella parte centrale, avremo deboli locali o fenomeni a ridosso dei settori occidentali. Ancora temperature è un aumento nella giornata di domani, in particolare nei valori massimi, quindi davvero sarà estate, possiamo dire così, domani. Il 2 di febbraio, sempre venti da sud, quindi ancora temperature elevate, avremo sole per tutta la giornata di domenica e condizioni di stabilità che perdureranno anche per la prima parte della settimana prossima. Questo è dunque il tempo, ma dicevamo con, vedete, notizie in aggiornamento costante sul Corriere della Sera, in alto a sinistra, in aggiornamento. Coronavirus, Conte, il Premier, due casi in Italia, sono due turisti cinesi, marito e moglie, arrivati a Milano il 23 di gennaio, ricoverati a Roma. Cosa sappiamo del virus e come si previene questo contagio? La paura è giustificata, cosa dicono i numeri? La mortalità del 2-3%. Blindato l'Istituto per malattie infettive, lo Spallanzani, cancelli chiusi, guardie giurate all'ingresso, sbarra aperta solo alle ambulanze, mentre si cerca di rintracciare chi è entrato a contatto con questi due turisti cinesi che sono stati ricoverati. L'annuncio di questo coronavirus, arrivato in Italia, lo ha dato in una conferenza stampa il Premier Conte, primi due casi accertati, dice lui, mentre davanti all'hotel Palatino, a Roma, tra bocche cucite, un po' di paura, dove sono stati isolati, sono entrati, hanno isolato le stanze dove hanno soggiornato questi due cinesi. A Roma le hanno sigillate, le hanno bonificate tutte. Intanto in Cina sono 213 i morti, 2000 i nuovi contagiati. Il Paese dice no a reazioni eccessive. Lo studio pubblicato negli Stati Uniti contraddice i risultati iniziali del governo cinese. Secondo un'equip di ricercatori cinesi, il nuovo ceppo di coronavirus diffuso da Wuhan nella Cina centrale si stava propagando da persona in persona già all'inizio del mese di dicembre. Intanto lo stop ai voli, cinque voli dalla Cina, però sono in arrivo a Fiumicino a Malpensa proprio questa mattina, però da lì in poi, dopo, non nessuno potrà andare e tornare dalla Cina. E poi l'effetto coronavirus sulle borse asiatiche, sulle borse in particolare quelle asiatiche che praticamente vanno a fondo. E poi la nave è bloccata a Civitavecchia con il racconto di una passeggera e lei che dice insomma quello che sta succedendo all'interno di questa nave mentre una donna che è tornata da un volo a Pechino a 18.15 dice stiamo tutti bene. Questa è insomma un po' la situazione, la situazione nella quale non possiamo ovviamente far finta di nulla anche se adesso inizia la rassegna stampa, una rassegna stampa locale dedicata alla provincia di Pesurbino e alle Marche con qualche notizia quella presa dai giornali. Il giornale che questa mattina con il Corriere Adriatico, appunto, edizione di Pesaro apre con un pesarese che si era trasferito da un po' di tempo in Perù e che è stato trovato morto e morto in Sud America per un malore. Simone Vanella, questo è il nome della persona che da qualche anno si era trasferito appunto in quel paese 39 anni, il prossimo 17 aprile, la morte è avvenuta tra il 28 e il 29 gennaio per un malore. Centro pagina invece il Corriere Adriatico pubblica la foto di Pesaro, la città di Pesaro dove il Comune sta per disciplinare l'accesso dei Corrieri. Qui la foto dell'ingresso del corso principale, quella che poi guarda alle spalle verso Piazza del Popolo. Centro storico più vivibile, si parte con il censimento delle autorizzazioni. Poi qui sempre sulla prima pagina il racconto di una anconetana, una ragazzina di 18 anni che è di Ancona, che però da tre anni vive e studia a Los Angeles dove era evidentemente in amicizia con la figlia di Kobe Bryant. Io con Gianna e Kobe Bryant il giorno prima dello schianto. Da raccontare un po' questa cosa, questa ragazza che sabato mattina era alla Mamba Academy e quindi ha incontrato la figlia di Kobe Bryant. I ladri in azione invece alla Baratov di Pesaro hanno preso di mira la villa di Arnaldo Forlani. I ladri hanno provato a entrare nella sua proprietà mercoledì. La frazione è stata denunciata alla polizia dalla custode della villa che si trova tra la zona Baratov e Novilara, una dimora che il 94enne, simbolo della democrazia cristiana, aveva eletto a suo buon retiro. In cassa invece per anni l'assegno sociale dalla zia morta in Argentina, una storia che troveremo tra poco e vi racconteremo dalle pagine di Urbino. Corsa alla mascherina, questa invece è la fotonotizia del resto del carriero di Pesaro. Coronavirus, aria di psicosi e cresce la paura. Guerra PD, le truppe di Ceriscioli. Gambini, presidente dell'Assemblea Comunale, dice il candidato è lui, ma arriva Orlando per la direzione decisiva. Il commercio pesarese che cambia mezzo secolo dietro al bancone, chiude bilancioni. E poi confermata a Fano, dopo un incontro, un summit di quattro ore, è la domenica ecologica bis. Dunque non fatevi trovare impreparati, domenica prossima di nuovo stop alle auto in centro storico a Fano. La sfida invece dal ranch di Valentino Rossi, due team per vincere. E sulla Yamaha intesa perfetta, dicono. E adesso questa è la fotografia della pagina principale del Corriere del Carlino, scusate, di Ancona. La più bella del mondo è la nave realizzata e consegnata ieri da Fincantieri. È una nave da crociera, praticamente extra lusso. E ci sono soltanto suite con terrazze private. Sono 300 passa e passa suite. non ci sono cabine per seconda, terza, quarta classe. Insomma, soltanto lusso. Questa è la fotografia del resto del Carlino di Ancona. Il Comune a Iesi vieta Facebook e social network ai dipendenti. Questa è l'altra notizia. Mentre da Macerata, elezioni regionali, caos, candidature. Salvini stoppa a Quaroli di Fratelli d'Italia. Ciara Pica dice se Matteo, Salvini ovviamente, mi chiama, sono pronto. PD in stallo arriva Orlando. E poi la fotonotizia invece per gli studenti che partecipano alle giornate dell'orientamento universitario. La carica dei 400. E poi in via Spalato a Macerata, due anni dopo, 18 fiori per Pamela, la città non scordi il suo martirio. E a Cingoli invece, vermi nella zuppa degli alunni, scatta l'esposto delle famiglie. Eccolo qua, Simone Vanella, che si era sposato in Perù. È stata la moglie a dare notizie della sua morte. È morto in un ospedale a Mancora, una località turistica del Perù, il paese sudamericano, dove si era trasferito pochi anni fa e dove aveva messo su famiglia, pur continuando a mantenere un forte legame con la città di Pesaro, la sua città e i tanti che lo conoscevano e che ieri ha preso della morte hanno espresso parole di dolore e di affetto per l'uomo. Intascava la pensione di una signora morta. La polizia denuncia per truffa un 43enne che aveva delega per il ritiro. Quindi andava a prelevare questi soldi di una pensionata che era emigrata in Argentina e che tra l'altro non aveva mai avuto un euro da questo uomo che aveva la delega per riscuotere questo assegno sociale dell'Inps di 649 euro. Quindi lui tutti i mesi andava zitto zitto in posta a ritirare l'assegno e poi se lo intascava e lo ha fatto per anni. Alla fine il conteggio fatto è praticamente si è intascato circa 35 mila euro. Non ha dato un centesimo a questa donna che nel frattempo poi in Argentina è morta. Però che cosa è successo? Che la polizia che stava facendo dei controlli incrociati eccetera e a un certo punto si è accorto che c'era questo signore che prendeva questi soldi. E allora cosa ha fatto la polizia? È andata all'ufficio postale, si è messa lì, ha aspettato e quando il tipo è uscito con i soldini l'ha fermato ed è venuto fuori quello che vi ho appena detto. È una vicenda che ha fornito spunto alla polizia soprattutto di continuare questa attività di verifiche per scongiurare che accadano situazioni simili a questa e tra l'altro dal commissariato di Urbino fanno sapere che stanno facendo controlli su centinaia e centinaia di persone che detengono armi magari ereditate da parenti che devono avere tutti i certificati in ordine. Per quanto riguarda la pagina di Urbino del Corriere Adriatico anche qui l'apertura è per la pensione incassata della zia morta una donna immigrata in Argentina percepiva l'assegno sociale dopo essere tornata nella sua Sant'Angelo in Bado il parente è stato denunciato, ha riscosso 335 mila euro anche se la signora poi deceduta era tornata in Sud America mentre per quanto riguarda la guinza, questa galleria qua che è chiusa e mai finita oggi ci sarà un sopralluogo tecnico di Anas con 8 sindaci per il Movimento 5 Stelle sono presenti coltorti a Cotto, Cattoi e Fabri poi visita alla Fano Grosseto e vedremo che cosa succederà intanto per domenica prossima a Fano sarà ancora domenica ecologica ma con ritocchi alla circolazione lo ha deciso ieri la Giunta modifiche sulle vie Don Gentili, Mamele e Palazzi che sono le vie che hanno subito il traffico più pesante nel corso della prima domenica ecologica che si è tenuta domenica scorsa che tante polemiche ha suscitato oggi c'è la definizione un po' del piano del traffico in linea di massima dovrebbe essere più o meno la viabilità del carnevale tanto per capire e intenderci che cosa succederà nei prossimi giorni e quindi cosa succederà e come sarà effettuata la viabilità per domenica prossima qui troverete tutti i particolari intanto Legambiente apprezza però aggiunge 5 consigli contro l'inquillamento anche piccole azioni a carico dei cittadini e potrete leggere quali sono queste 5 buone azioni confermata la seconda domenica ecologica a titolo del resto del calino una decisione sofferta quella presa in giunta si replica l'esperimento ma con alcuni accorgimenti sono state necessarie 4 ore di riunione per confermare questa seconda domenica ecologica una decisione quella partorita ieri mattina sofferta dalla giunta che dopo una lunga discussione ha deciso di replicare l'esperimento della chiusura al traffico del centro città con alcuni accorgimenti riproporremo a detto seri al termine della giunta la viabilità del carnevale che rimane la migliore in quanto rende il traffico più snello e fluido sicuramente il traffico di via Pappiria sarà deviato su via Mameli mentre via Don Gentili nella scorsa domenica assediata dal traffico delle auto sarà chiusa al traffico sarà emessa dunque una nuova ordinanza con queste variazioni del perimetro verde che comunque sarà protetto come la scorsa domenica da tutti i blocchi auto presidiati da Polizia Locale e Protezione Civile e le autovetture non potranno né entrare né uscire dalle 9 alle 19 l'invito da parte del sindaco a ridurre poi di un grado la temperatura nelle abitazioni e nelle aziende noi lo faremo in tutti gli edifici pubblici diminuendo la temperatura di 2 gradi vogliamo in qualche modo dare l'esempio poi dice sempre il sindaco nell'aria a Fano ci sono elementi inquinanti e noi ci preoccupiamo di ridurli ancora dai quotidiani questa è l'altra pagina di Fano però siamo di nuovo sul Corriere Adriatico apre le porte il Palazzo del Carnevale cultura, spettacoli, jazz e innovazione tra le iniziative anche la cena di beneficenza con Pinocchio e l'atleta paralimpico Vincenzo Boni il contenitore è ospitato nell'ofta di Casarredo nato sulle ceneri dell'ex cinema Boccaccio ladri in casa rubano anche gli oggetti di un bambino l'incursione in pieno giorno in un'abitazione di Montegiove poi un altro furto a segno a Centinarola quindi ancora ladri nelle abitazioni anche se questa volta hanno abbandonato la città per un'incursione nella zona di Montegiove a Centinarola mercoledì mattina i ladri sono entrati in questa casa dove hanno messo a soquadro l'appartamento rubato oggetti e denaro notevoli anche i danni provocati alla casa infatti per entrare hanno prima rivelto una persiana e poi mandato in frantumi una porta a finestra tutto questo è successo tra le nove e le dodici nel breve arco di tempo in cui la famiglia è rimasta lontana da casa e tra l'altro tra i vari oggetti hanno rubato anche effetti personali che appartenevano a un bambino di cinque anni che vive ovviamente lì con i genitori e poi in una villa in una casa vicina un'altra abitazione isolata hanno sentito qualche rumore non si sono accorti di nulla però anche qui hanno portato via 5.000 euro insieme al senso di sicurezza di un'intera famiglia questo sì è quel senso di sicurezza che poi fa fatica a ritornare infine un altro furto l'ultimo quindi il secondo è stato messo in segno una casa di centinarola in questo caso i ladri sono fuggiti indisturbati le immagini ve le avevamo fatte vedere di questa incursione nell'edizione dell'altro giorno del nostro telegiornale sapore di carnevale ecco birra e pizza si arricchisce dell'aspetto culinario il progetto di promozione Maria Flora Giammarioli dice faremo come a Pesaro con la pizza Rossini le immagini delle sfilate sugli schermi di aeroporto e stazioni della capitale questo per quanto riguarda la promozione e poi auto a fuoco in via Pertini paura e traffico bloccato sul posto la polizia locale e i pompieri che hanno domato ed estinto le fiamme questo è successo intorno alle 17.30 di ieri pomeriggio ascolto inclusione e didattica Africa chiama cerca volontari da 5 anni l'associazione organizza un particolare servizio di doposcuola e poi c'è il Papa nella pagina di Fano del Corriere perché questa bambina a un certo punto ha letto un messaggio è una bambina sono anzi due bambine dell'azione cattolica che durante l'Angelus di domenica scorsa hanno parlato di un progetto di solidarietà proprio dell'Africa Chiama di questa associazione fanese abbiamo fatto piccole rinunce ha detto questa bambina per aiutare alcuni villaggi fra questi uno in Kenya creato appunto dall'Africa Chiama un momento di commozione e tenorezza che ha coinvolto tutta la folla dell'Angelus per te un affetto vero che non avrà mai fine questo è il titolo virgolettato che riguarda il funerale di Jessica Cuna le sequie sono state celebrate ieri in chiesa a Cucurano nella chiesa di San Biagio la Dia Jessica Don Steven dice nell'Omelia anzi ricorda il mistero della vita un affetto che un affetto vero che non avrà mai fino un nutrito gruppo di giovani che si è riunito ieri mattina a Cucurano di Fano per stringersi ai familiari di Jessica Cuna questa 24enne fanese di origini leccese che è stata travolta da un treno merci nella notte di sabato scorso una ragazza descritta come riservata e buona che per queste sue caratteristiche si era conquistata un posto nel cuore dei suoi coetanei e delle sue coetanee Piancerreto impossibile avvallare battute di caccia contro i cinghiali il sindaco di Fossombrone sta studiando soluzioni ma non si può prescindere dalla presenza delle case sull'invasione dei cinghiali nel centro abitato di Piancerreto il sindaco Bonci scrive siamo ben consapevoli del problema legato alla massiccia presenza di cinghiali nel nostro territorio problema che credo interessi tutto il resto della provincia e non solo voglio però concentrarmi sulla situazione particolare di Piancerreto dove di recento si sono verificati numerosi avvistamenti di tali animali vicino alle case ed attraversamenti della statale con innegabili pericoli per la viabilità probabilmente il fenomeno è accaduto è accentuato scusate anche dalla scarsità di pioggia che dunque spinge cinghiali dalla foresta verso valle alla ricerca di acque e quindi verso il fiume Metauro ci siamo già confrontati più volte con le autorità provinciali con i carabinieri e stiamo cercando una soluzione che però non è semplice vista la vicinanza delle abitazioni non si può autorizzare a sparare a questi animali quando sono vicini alle case Colli al Metauro chiama le agenzie interinali saranno ospitate al Tam Tam e i giovani potranno sostenere subito i colloqui e adesso la pagina della Valle del Cesano con Pergola che rinnova l'adesione agli itinerari della bellezza firmata la convenzione con Confcommercio il 10 febbraio presentazione alla BIT di Milano che è la Borsa internazionale del turismo qui vedete il direttore di Confcommercio Amerigo Verotti con la sindaca Simona Guidarelli grande attesa per il consiglio a San Lorenzo in campo ma noi proseguiamo il comitato nato contro l'allevamento della Fileni sta raccogliendo le diffide subito la conferenza dei sindaci il piano sanitario non va discusso Matteo Ricci nel mirino del forum per i beni comuni e dei 5 Stelle da 8 mesi dicono fa finta di niente a 120 giorni dal voto non è possibile accelerare su una programmazione di questa portata a Pergola camera mortuaria oggi il trasloco per i lavori di adeguamento sismico dell'ospedale di Pergola dall'attuale alla est il servizio sarà trasferito nel seminterrato 2 del fabbricato Ovest e ancora dalla pagina di Senigallia del resto del Carlino questa è la fotografia del viscioleto prima e dopo l'azione compiuta dai malviventi nei giorni scorsi alberi di visciola decapitate al setaccio telecamere testimoni i titolari dell'azienda non si danno pace l'affetto che stiamo ricevendo ci permette di andare avanti è il viscioleto del cardinale distrutto che vedete nella fotografia sotto Luca e Giselle cardinali che sono i titolari di questa azienda che produce vino di visciola grappa e anche prodotti dolciari a base della ciliesia selvatica non perdono le speranze ma invitano chiunque possa aver visto qualcosa di strano si faccia avanti dicono lanciano quest'appello su Facebook non possiamo lasciare che così tanta cattiveria gratuita resti impunita Luca dice sono ancora incredulo per quanto è successo tra lunedì e martedì mattina e ha chiesto tutte le persone che abitano o lavorano a ridosso di questo viscioleto che lo ricordiamo si trova tra Monte Carotto e Serra dei Conti a riferire a dire a non aver paura a parlare perché è un atto che in tanti su Facebook hanno definito di stile mafioso però questo è hanno praticamente tagliato con delle motoseghe tutti questi 300 300 alberelli 300 piante di visciole ora vorrei un attimo approfittando della pagina di Ancona ma può succedere in tutte le marche può succedere anche da noi vorrei soffermarmi velocemente perché abbiamo poco tempo su questa truffa che riguarda la gomma forata adesso non abbiamo tempo per spiegarvi cosa succede però praticamente i malviventi cosa fanno prendono di mira guardano i soggetti se uno entra in banca gli bucano una gomma con un punteruolo ovviamente l'automobilista quando esce dalla banca quindi si presume con dei soldi o ha ritirato qualche soldo sale in macchina appoggia i soldi e il borsello e parte quando dopo che è partito ovviamente la gomma perde aria e quindi si sgonfia cosa succede l'automobilista scende e si preoccupa di cambiare questa gomma magari mette il ruotino e allora occupandosi della gomma perde un po' il senso di quello che gli accade intorno ecco che lì entrano in azione i ladri così come è successo ieri mattina poco dopo le 10 lui dice questo signore mentre controllava la gomma sgonfia ho notato un piccolo foro sul lato della ruota che è stato fatto probabilmente con un punteruolo uscito dal parcheggio mi sono accorto che qualcosa non andava ho parcheggiato la macchina ho fermato la macchina il tempo di concentrarmi sul cambio della gomma i ladri sono riusciti a portarmi via il borsello con dentro il denaro che avevo poco prima ritirato per saldare il conto del dentista Urbino dateci il treno pop non le biciclette l'associazione ferrovie vale metauro 33 anni fa dice chiudevano la fan Urbino ad Ascoli invece la salvano questa è una foto storica della ferrovia di Urbino dove forse arriveranno le biciclette al posto del treno in molti però vorrebbero che tornasse il treno banda in azione in zona Baratov nel Mirino oppure la villa di Forlani il buon ritiro del politico abitato solo dal custode che ha denunciato il tentativo di effrazione mentre sull'indagine della Guardia di Finanza all'Erap le case delle case popolari l'ufficio tecnico è ora passato ai raggi X appalti pilotati tra gli otto sotto inchiesta figurano due geometri e un ingegnere ZTL a Pesaro sforbiciata ai permessi si blinda l'accesso ai varchi il comune ha pronto il piano per rendere più vivibile il centro storico si parte con il censimento delle autorizzazioni Belloni dice le telecamere di controllo ad ogni ingresso e disciplineremo il transito dei corrieri ponendo loro dei limiti in chiusura sale la psicosi del coronavirus mascherine corse in farmacia siamo sulla pagina di Pesaro ne vendiamo 30 all'anno ora invece dice questa farmacista vanno a Ruba e anche a Fano in fila per l'acquisto ma le scorte sono addirittura finite e caccia le mascherine protettive in quasi tutte le farmacie fanesi scorte esaurite come in diverse altre parti d'Italia anche nelle farmacie cittadine insomma le mascherine sono praticamente introvabili ambulatori front office della paura scusi ma il vaccino funziona Battistini che è il presidente dell'ordine dei medici dice è una raffica di domande noi cerchiamo di tranquillizzare ma insomma facciamo fatica mentre Burioni dice attraverso Twitter spero di vedere i Novax in ginocchio a implorare aiuto una uscita che ha scandalizzato qualcuno che dice un uomo di scienza dovrebbe desiderare solamente salvare vite umane e basta ma Burioni non si è lasciato intimorire e ha risposto gli antivaccinisti sono cavernicoli e irrazionali che a mio avviso non possono essere convinti da argomenti razionali gli unici a mia disposizione meglio ridicolizzarli e prenderli in giro e con questo chiudiamo la rassegna è tardi grazie per averci seguito ci vediamo stasera alle 20 e 30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a presto a presto a presto Grazie a tutti.